Musica Benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 13 ottobre 2016, siamo in diretta, sono le 7 e mezzo, buongiorno. Cominciamo dal santo di oggi, oggi la chiesa cattolica ricorda una santa abruzzese, santa chelidonia di Subiaco. Il sole è sorto alle 7 e 20, tramonterà alle 18 e 28. Il cielo oggi sarà poco o parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata, con aumento della nuvolosità nei settori centrosettentrionali nel pomeriggio. Sempre nel pomeriggio di oggi, deboli precipitazioni più probabili nel settore centrosettentrionale della regione, quindi anche nella nostra provincia. La provincia di Piesurbino, esaurimento dei fenomeni in serata, le temperature sono stazionarie o in lieve aumento. Per la giornata di domani, venerdì 14 ottobre, ancora tempo brutto, pioggia soprattutto nelle zone interne e soprattutto nel pomeriggio, ci saranno brevi piovaschi. Mentre schiarerà il tempo lungo la fascia costiera. Le temperature sono in aumento. Per la giornata di sabato 15, ancora più o meno la giornata si preannuncia variabile sulla costa, con piogge ancora sul pesarese, l'entroterra pesarese. E nella parte meridionale della regione, le temperature sono in aumento, soprattutto nei valori minimi. Per quanto riguarda la giornata di domenica, il sito della protezione civile delle Marche prevede sostanzialmente una giornata simile a quella che state vedendo, cioè quella di sabato. Poi il tempo rimarrà stabile per i giorni di lunedì e martedì, con probabile peggioramento da mercoledì in poi. Il Corriere Adriatico, griff false, raffica di sequestri e denunce, nella rete della Guardia di Finanza di Pesaro sono finiti 39 indagati, trovati 11.000 prodotti contraffatti. Mentre l'immagine del Corriere è per un trafficante di armi che è stato preso a Tripoli. Si tratta di una spy story tra le Marche, la Libia e l'ONU. Trattava una fornitura da 16 milioni e ostaggio dei clienti vogliono i soldi. L'indagine del ROS sugli strani affari di un faccendiere a Scolano. Le pagine interne. Vodka party con i minorenni. Grido d'allarme dei genitori all'incontro promosso da il giovane Olten con psicologi e psicoterapeuti. Baia Flaminia dal luogo di sballo a centro di riflessione e testimonianze e servono più controlli e sostegno. Non esiste la crisi per i falsi. La finanza sequestra migliaia di capi contraffatti. Sono più di 11.000 prodotti scovati dalle fiamme gialle e caccia adesso alla filiera. Taroccati anche i pellet, quelli che servono per il fuoco. Un imprenditore è stato denunciato per i marchi sugli imballaggi. La pagina di Fano. Seri, sindaco, Chiaruccia, il territorio sia unito. Ospedale unico, appello ai sindaci delle valli del Metaule e del Cesano contro l'accentramento di funzioni a Pesaro. Il primo cittadino ribadisce, il sito fanese, cioè quello di Chiaruccia, è oggettivamente il migliore. No secco a muraglia e anche a fosso sei ore. Non viene avvallato un piano B. Senza condivisione la scelta sarà fatta dall'angoritmo. Il comitato incontra il sindaco Bellocchia, una zona da risanare. Illustrata la piattaforma, critiche agli enti pubblici strumentali minimizzano i fatti. Lamentata la crescita disordinata della zona industriale con fabbriche a contatto con le case. L'Isippo smontato il parere del legale americano. In tribunale una docente della Duke University. La tesi è negata da Cecchi e Tonnini. Pedina e tormenta l'ex fidanzata. Nei guai un esperto di Thai Box aggredisce la donna con un amico in un locale, denunciato dalla polizia. Il quarantenne fanese era stato già munito dal questore con il ritiro delle armi da caccia, però evidentemente non è servito. L'uomo non accettava la fine della relazione decisa da una 35enne fanese. Truffe online pagano ma non ricevono la merce. È successo a Fano, i raggiri per un gioco gonfiabile e per una macchina fotografica. Gli assegni erano scoperti per due PC. Nei guai sono finiti e sono stati denunciati per truffa un cinquantenne di origine campana e una 35enne fanese. La storia attraverso tanti volti. Siamo a Marotta, ricordi e aneddoti di Marotta. Terzo volume di Memorie finanziato in otto anni dalla Banca Popolare Valconca. L'autrice di questo libro, di questa raccolta è Ersilia Riccardi, che ha raccolto fotografie e testimonianze, tra cui questa che vedete pubblicata sul giornale di questa mattina. E poi sotto un'iniziativa che arriva da San Giorgio di Pesaro, premiati i nonni con il maggior numero di nipoti. È una bella tradizione quella di San Giorgio. Sabato in questo paese, nella sala polivalente alle 4 del pomeriggio, ci sarà questa terza festa dei nonni con il ricevimento da parte del sindaco Antonio Sebastianelli. E poi ci sarà la tomba con il buffet. E insomma, è una bella iniziativa e cercheranno di premiare una nonna. È un nonno con il più alto numero di nipoti. Da Senigallia, contravvenzione doppia in agguato per i furbetti dell'aperitivo, quelli che pur di andare a prendere l'aperitivo al bar, fanno pezzi di strada riservati alla ZTL, quindi una zona traffico limitato. Il comandante della Polizia Municipale di Senigallia, Flavio Brunaccioni, dice le auto in sosta nella ZTL, se non hanno il permesso, prenderanno un'altra sanzione. E poi voglio vedere le tue foto, Osè. Questa è la minaccia di morte su Skype. L'amante virtuale è stato condannato però a 10 mesi per tentata violenza sessuale. È una brutta vicenda quella che ha subito una 35enne dell'Interland di Senigallia, che risale però al 2012. Qui c'è il racconto di quello che è il processo. È processo a Pesaro anche per la tragica morte di Ismaele Lulli. Ambera venga e parli al processo per l'omicidio di Ismaele, parla la mamma, Deborah, che chiama in causa la ragazza che aveva tradito Igli con la vittima. Nelle deposizioni poi emerge un uso smodato di droga. Ambera è questa ragazza che è stata cerchiata adesso, Igli invece quest'altro dovrebbe essere lui, sì. Insomma c'è stato questo processo e allora entriamo nella pagina interna del resto del Carlino perché la mamma Deborah, che non si dà pace giustamente, purtroppo, al processo dice perché non hai salvato Ismaele. Tutti sapevano del pericolo, tranne mio figlio. Da un anno aspetto di sapere perché non lo ha avvertito della vendetta certa di Igli, con cui Ambera aveva una storia. E la furia che ha scatenato Igli è proprio questa, l'aver saputo da qualcuno che Ambera, la sua fidanzata, la sua ragazza, la persona con la quale stava, che stava frequentando, aveva avuto qualche rapporto forse con il povero Ismaele. E poi l'accusa della mamma ancora rivolta agli amici di Ismaele. Dove eravate? Lo hanno lasciato solo, totalmente abbandonato a quel destino atroce. La sfilata degli amici testimoni, consumatori di droga, il retroscena, compravano la roba da Igli che spacciava sotto il falso profilo Facebook un nome di femmina, Silvia Brancaleoni. Questo è il nome che usava su Facebook, dietro c'era invece Igli per spacciare droga. Da Fano, il resto del carino, avanti Chiaruccia, va da retro Muraglia, ma tace su Fosso Signore e provoca Urbino. Ospedale unico, serie anticipa quello che dirà all'Assemblea di Area Vasta con tutti i sindaci. Poi a loro, ai colleghi, lancia un appello. Se il territorio è diviso, favorirà l'accentramento di servizi nel capoluogo, quindi a Pesaro. E ancora, segue la ex, escatena la risse. È stato denunciato, nei guai è finito un Thai boxer di 40 anni. La polizia scopre inoltre tre truffe per acquisti online. E poi c'è quest'altro articolo, sempre su questa pagina di Fano del Carlino. Ragazzini delle medie a tu per tu con il pusher, cioè con quello che vende droga. Controlli in centro storico a Fano, adolescenti sempre più curiosi e complici del crimine. È stata denunciata infatti per recetazione una ragazzina rumena di 17 anni, trovata in possesso di un cellulare che era stato rubato qualche giorno fa a saltare. Il muro di Poderino, parliamo di viabilità, è la città che cambia, è la città che cambia anche volto, immagine. Quartiere straziato, critica ai pannelli degli interquartieri. Prima c'erano bellissimi pini marittimi, adesso invece ci sono questi pannelli già arrugginiti. La strada è stata progettata nel 1963, dopo 53 anni vedrà la luce, pensate, a novembre. Ok? Allora andiamo adesso sulla ultima pagina del resto del Carlino, quella di Fano e Valle del Cesano. Perché? Perché tra un mese esatto, il 13 di novembre, i cittadini di Montemaggiore, Saltare e Serrungarina saranno chiamati alle urne per dire sì o no alla nascita, mediante fusione, del comune di Colli al Metauro. Quindi si comincia a parlare di questa fusione che appunto avverrà tra questi tre importanti comuni, che sono Montemaggiore, Saltare e Serrungarina. Cappellini dice, il consigliere comunale di Saltare, Andrea Cappellini, che porta avanti questo progetto di fusione, dice con questa fusione risparmieremo 480 mila euro e 900 mila euro di contributi. Ok, l'asfalto su Via Marche, ora tocca la Flaminia, da Cartoceto invece a manutenzione delle strade, si metterà a mano anche alle reti tecnologiche e alle fognature. E questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa di oggi. Vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che questa sera abbiamo il telegiornale alle 20.30 e poi subito dopo un'altra puntata in diretta, dopo quella di martedì seguitissima, un'altra puntata in diretta di Missione Salute. Grazie per averci seguito, a voi tutti, buona giornata. Grazie per averci seguito, a voi tutti.